eccoci ragazzi benvenuti o bentornati sul canale come potete vedere siamo in macchina e ci stiamo dirigendo ad esplorare un parco di auto abbandonate questo posto l'ho trovato casualmente su google maps quindi per quanto riguarda il mondo urbex non è conosciuto e nulla, non so che tipi di macchine ci possano essere all'interno ma questo lo scopriremo insieme tra poco quindi ora è il tempo di arrivare ed iniziamo subito l'esplorazione ma prima se non l'avete ancora già fatto io vi ricordo sempre di iscrivervi al mio canale youtube e anche al mio gruppo facebook che ho creato per quanto riguarda l'esplorazione urbex se volete iscrivervi qui sotto trovate il link in descrizione ma ora non perdiamo tempo, sigla ed iniziamo, vai! ecco siamo entrati all'interno di questo parco di auto come potete vedere le macchine non sono d'epoca però comunque ce n'è veramente tante ora niente ci rifacciamo di fondo e gli diamo un occhio ammortizzatore in terra, gomme, insomma c'è un po' di tutto qui c'è una vecchia punto come potete vedere nemmeno tanto vandalizzata alla fine anche se gli è stato portato via un po' di pezzi del motore come vedete poi una panda delle vecchie senza sedili una vecchia pizza, un furgone ecco questa è una lancia vediamo DEDRA DEDRA 2000 DEDRA, sì guardate c'è il cambio automatico non è assolutamente vandalizzata guarda qui c'ho un po' di stili nel mezzo c'ho un vetro rotto guardate un'altra DEDRA una multipla ora logicamente non ve le sto a far vedere tutte perché sono veramente tante poi una vecchia Fiat 500 classe A come vedete ora comunque andiamo avanti e vi faccio vedere tutte quelle altre qui c'è una punto una punto 90 un'Alfa Romeo vediamo se è aperta un po' tutta smontata come vedete questo è l'interno ben conservato possiamo dire e poi vi faccio vedere i davanti parlo piano perché comunque a fianco ci sono delle assesi che dobbiamo stare attenti questa è l'Alfa 156 anche questa è aperta e come potete vedere l'interno è ben conservato non è messa veramente male poi una Volvo una Saab una Saab vediamo se è aperta anche questa vi faccio vedere l'interno un po' di ragnatele con la quala Saab poi qui abbiamo un vecchio Discovery guardate qui tutto ammuffito questo è l'interno guardate i due cambi quello per le marce ridotte guardatela andiamo a fare attenzione qui c'è il vetro guardatela tutto spaccato poi continuiamo visto che è un vecchio furgone un doblò andatela questo è abbastanza messo male una vecchia punto e questa una a uno sportella aperto un botto di ragnatele va dai chiudiamo la porta più a fianco c'è una Polo dovrebbe essere sì una Polo però ci si entra male faccio vedere l'interno ecco la Polo della Volkswagen ecco poi arriviamo a questo punto c'è un camper camper una roulotte anche ora andiamo a vedere se è aperto c'è anche un giornalino di quelli porno lasciamo fare questo è l'interno del camper ma sembra che non ci sia nulla ci sia poca roba ecco l'interno del camper ma come vi ho fatto vedere non c'è veramente nulla questa è una vecchia Megane vediamo se è aperta anche questa sono tutte aperte comunque le macchine di questo di questo parcheggio di questo parkhouse eccole via vediamo la porta ve la faccio vedere da davanti eccoci abbiamo sentito un po' di rumori ma ci dovrebbe essere nessuno ora comunque ecco qui mi volevo soffermare su questo maggiolone che non sembra male però dentro è aperto ma tutto blocchiato ecco vi infilo la camera dentro se lo potete vedere eccolo qua con questo questi copri sedili ho visto interno molto particolare poi c'è molte altre auto non ve le sto a far vedere tutte perché sennò veramente ci si potrebbe stare una giornata proprio niente la parte retro l'abbiamo vista poi andiamo sulla parte avanti anche se aspettate un attimo che mi manca questa roulotte ve la faccio vedere ecco qua vi faccio vedere anche questa è aperta però l'interno come potete vedere vuoto una lancia tema di là un vecchio dotato un vecchio dotato addirittura al pulsante guardate dell'aria guardate talmente vecchio c'era più di vent'anni questo è molto vecchio poi niente altre macchine un'altra panda un'altra panda ma se attivizza qui c'è un VMW che è stato anche dipinto sono state levate anche le ruote quando arrivano le ruote quando arrivano le ruote non è rimasto in giallo fuori strada della Nissan si deve stare attenti perché qui accanto c'è proprio un'abitazione quindi questa è chiusa però qui c'è questo prefabbricato che è stato smantellato come potete vedere altre macchine una Citroen Picasso e qui un'altra VMW qui a fianco c'è un altro stabile però come potete vedere è totalmente vuoto ragazzi non so se questa era una vecchia concessionaria d'usato oppure un parco macchine rubato non sappiamo non abbiamo nessuna informazione in merito che se questa è una vecchia lì con il cambio automatico guardate c'è anche il chilometraggio 78.264 chilometri dopo l'esplorazione abbiamo recuperato alcune informazioni ed è emerso che questo luogo era una concessionaria di auto usate poi improvvisamente per motivi ignoti tutta l'aria è stata posta sotto sequestro e come vedete ad oggi è rimasto tutto fermo nel tempo no ma l'hanno smantellato qui dovrebbero vedete vedete eh sì vedete vi dovrebbero avere smantellato proprio il tetto qui ci rimane solo qui ci rimane solo un bagnetto eccolo qua questo dovrebbe essere eh che è tornito guardate qui c'è e come potete vedere c'è un triangolo e la chiave per smontare le gomme guardate è anche abbastanza nuova poi ci sono altre macchine sono molto recenti l'esplorazione del parco auto è conclusa come avete visto ci sono davvero tante macchine di tutti i tipi niente io vi ringrazio per la visione mi raccomando seguitemi sempre sul canale e noi ci vediamo presto ai prossimi video un saluto a tutti